Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Oggi è il mercoledì delle ceneri e segna l'inizio del tempo della Quaresima, che è caratterizzato, come dice il nome, dall'imposizione delle ceneri sul capo di ogni cristiano. Un gesto che forse oggi non sempre è capito, ma che, se spiegato e recepito, può risultare più efficace delle parole. La cenere, infatti, è il frutto del fuoco che arde, racchiude il simbolo della purificazione, costituisce un rimando alla condizione del nostro corpo, che dopo la morte si decompone e diventa polvere. Simbolica ricca quella della cenere, già conosciuta nell'Antico Testamento, nella preghiera degli ebrei. Cospargersi il capo di cenere è segno di penitenza, di volontà di cambiamento attraverso la prova, il crogiuolo, il fuoco purificatore. Ricevere le ceneri significa prendere coscienza che il fuoco dell'amore di Dio consuma il nostro peccato. Accogliere le cenere nelle nostre mani significa percepire che il peso dei nostri peccati, consumati dalla misericordia di Dio, è poco peso. Guardare quelle ceneri significa riconfermare la nostra fede pasquale, saremmo cenere ma destinata alla resurrezione. Buonasera a tutti.